Mauser car 98 della denix legno e metallo perfettamente funzionante nella meccanica di oltre di mira attacchi per tracolla molto realistico non spara, non emette alcun rumore non può in alcun modo essere utilizzato come arma che esplode colpi o lancia qualcosa poiché è otturato è una parte rossa inamovibile libera vendita, libera detenzione, libero trasporto bellissimo pezzo ecco 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 ecco